È primavera, è un momento magico per il Parco Nord Milano, lo vedete dai fiori, dalla natura che riprende vita, dall'attesa che abbiamo delle prime piogge che ci aiutano in primavera a rinfrescare il suolo e a far nascere le foglie, insomma un momento in cui ci si deve innamorare del Parco Nord Milano. È Pasqua e quindi è il momento anche per stare insieme, per poter acudire i nostri affetti, le persone care, per stare in famiglia, tra amici e il Parco Nord vi aspetta. Sapete che i parchi sono aperti anche se siamo in una situazione ancora difficile e dobbiamo agire con grande responsabilità. Invito quindi tutti i fruitori, le fruitici del Parco a visitare il Parco mantenendo le distanze, rispettando le norme di precauzione che penso ormai tutti noi siamo abituati a osservare. Vi ringrazio per venire qua questi giorni in questo weekend di Pasqua. Buona Pasqua a tutti.